Ciao, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, bienvenido, bienvenida, benvenuto, hola. Eccomi qua un'altra settimana per parlarvi di cosmetica, oggi con un tema molto difficile, molto complesso, ma cercherò di farlo facile, le macchie sul viso. Parliamo di cosmetica sulle macchie, sulle creme, sieri e altri prodotti che potete utilizzare per togliere le macchie dal vostro viso, dal tuo viso. Per quelli che non mi conoscete, io sono Luis Campos, sono un medico, sono chirurgo, mi occupo di medicina e chirurgia estetica, lavoro principalmente a Milano, città dove abito da qualche anno e questo accento, chi non lo sa, non è un accento italiano, evidentemente, sono spagnolo e mi sono trasferito da qualche anno a Milano, sono rimasto nella bella Italia perché mi piace tantissimo. E ogni settimana condivido con voi le mie conoscenze su cosmetica, medicina estetica, chirurgia estetica di forma che, di modo che vi posso dare informazione per le vostre scelte e per capire un pochettino di più questo mondo che ogni giorno è più difficile con tanti trattamenti, cosmetici, creme, laser, interventi, eccetera, eccetera. Se ti piace quello che dico, se ti piace il mio canale e i miei video, sai che ti puoi iscrivere qua facendo clic nella parte di iscrizione al mio canale di modo che ogni settimana, quando pubblico un video, ti arriva la notifica e non ti dimentichi di guardare il video che sempre penso che riuscirai a imparare qualcosa e ti può essere utile, almeno quello cerco con i miei video. Oggi vi dicevo, parlerò di macchie. Il trattamento delle macchie sul viso è un trattamento molto difficile. Innanzitutto ci dobbiamo rendere conto che il fattore che crea le macchie, il più importante fattore che crea le macchie è il sole. Per evitare le macchie, ve l'ho detto in tanti video, dobbiamo proteggere la pelle dal sole e quindi dobbiamo utilizzare un'ottima protezione solare. Ma quello che sta succedendo attualmente negli ultimi anni è che prima vedevamo in clinica, in studio, vedevo tanti pazienti oltre 40, oltre 50 anni che avevano le macchie. Adesso ogni giorno mi trovo pazienti, ragazzi, ragazze più giovani che hanno le macchie addirittura dai 20, 25 anni. Tu dici, ma come mai hanno le macchie? Per un motivo molto importante che è cambiato in questi ultimi anni. L'uso dei computer, l'uso dei tablet, l'uso dei cellulari. I computer, lo schermo del computer, della tv, dei tablet, del cellulare crea un'emissione di raggi e azzurri che possono macchiare la pelle. Quindi, incluso quando sei al chiuso, che stai utilizzando il computer, il tablet, il cellulare, sarebbe consigliato utilizzare una crema di protezione solare. Detto questo, andiamo a parlare di cosmetici. Questo è un mondo amplissimo, nel senso che tutti i marchi hanno la linea di prodotti contro le macchie. E' tante volte difficilissimo scegliere un prodotto e scegliere un altro. Io oggi vi farò vedere quello che in questo momento ho a casa mia e che sto utilizzando. E perché li utilizzo? Il mio interesse è che voi possiate imparare i diversi principi attivi di modo che ogni volta che andate a comprare un prodotto in farmacia o in profumeria capite di cosa si tratta e cosa fa e cercare di non spendere i soldi. Io spendo soldi, butto tanti soldi in cosmetica perché voglio provare. Mi dà un pochettino di fastidio quei marchi che non mi dicono il principio attivo. Quindi devo andare a leggere tutti i principi attivi per capire esattamente cosa hanno e a volte vi assicuro che non è chiaro. Detto questo, senza allungare di più, vi devo dare prima una piccola lezione di anatomia, di dermatologia, per capire cos'è il trattamento delle macchie. La nostra pelle si compone di sette strati. È come se fosse una millefoglie, una parmigliana, per capirci. E quindi ha sette strati. Le cellule, le macchie si creano perché la nostra pelle crea la melanina. La melanina è un pigmento, un colore, che fa diventare in una zona della pelle la nostra pelle marrone. È la stessa cosa che quando ci avronziamo di estate ci fa diventare avronzati e quindi più oscuri di pelle. A volte questa melanina si compacta in una zona e ci crea le macchie. E quindi dovete capire che la pelle, come dicevo, è composta da sette strati. La pelle è superficiale, poi in profondità c'è altro. Quindi sette strati. Le cellule che creano la melanina le troviamo nell'estratto inferiore, in profondità. Quindi la melanina che creano queste cellule, che si chiamano melanocita, passerà piano piano agli estratti superficiali fino ad arrivare alla superficie cutanea. Quando arriva alla superficie cutanea, queste sono le macchie più facili da trattare. Perché quando la melanina arriva alla superficie cutanea, arriva alle cellule che si chiama cheratinociti e che con i pillin di acido, di acido glicolico, acido lattico, cogico, eccetera, le possiamo rimuovere. Le possiamo pulire. La melanina che rimane in profondità, negli estratti più profondi, è la più difficile da trattare, da rimuovere. E lì dobbiamo utilizzare composti, ingredienti durante una lunga durata o possiamo utilizzare anche tecnologie come laser o dei peeling chimici, quelli forti che si fanno in studio medico. Ma per capire voi dovete creare una routine di estetica che vada a trattare. Siccome non sapete se le vostre macchie sono superficiali, se sono intermedie o se sono profonde, dovete creare una routine di bellezza dove andate a utilizzare diversi composti, diversi ingredienti che vadano a lavorare in diversi estratti della pelle, di modo che siete sicuri che le vostre macchie scompariranno, o almeno si assottiglieranno o almeno possiamo ridurre la comparsa delle macchie. E vi dico cosa sto utilizzando io in questo momento e vi spiego perché utilizzo questa cosa. Inizio da due sieri, no scusate, da due tonici, questi sono due tonici. Sapete che io non sono un grande amante dei tonici, quelli che servono per i pori, eccetera, ma si di quelli che hanno una vera funzione e un vero principio attivo che so che mi dà qualcosa. Inizio da questo, dal marchio Pixi, che si chiama il Glow Tonic, ed è composto del 5% di acido lattico, e acido lattico al 5%, scusate, acido glicolico, che mi confondevo, acido glicolico. L'acido glicolico è un acido che fa un effetto peeling, un effetto soft, può essere più aggressivo se lo facciamo al 10, 15, 20%, ma al 5% lo potete utilizzare tranquillamente a casa. Questo andrà a rimuovere le cellule morte della nostra epidermide, dell'estratto più superficiale della pelle, rimuovendo quella melanina che è arrivata in superficie. Utilizzandolo in continuazione potrebbe entrare negli estratti più profondi, ma essendo un tonico che entra in contatto con la pelle, rimane molto in superficie, e almeno quelle cellule superficiali, quelle macchie superficiali, riusciamo a toglierle. E questo è un ottimo prodotto che non costa neanche tanto. Lo trovate a Sephora, eccetera. Poi ho utilizzato in questo periodo questo del marchio Murat, che è questo marchio americano, che è un mix di acidi. Insieme a quello hanno messo anche una cosa che è come se fosse un olio, una testura oleosa e un tonico. Vi sono sincero, non mi è piaciuto tantissimo, perché lavo il viso e dopo applico il tonico, mentre che l'altro di Pixi è molto liquido e non sento neanche che ho messo niente, perché è veramente liquido, questo avendo quel mix tra acidi e lipidi, grassi, mi crea un pochettino, mi unge un pochettino la pelle, quindi sento che dopo non mi penetrano gli altri composti, gli altri sieri che utilizzo dopo il tonico. La cosa buona di questo è che ha un mix tra acidi, tra acidi glicolico come l'altro, ma anche un altro acido molto di moda da qualche anno nell'utilizzo per smacchiare, per rimuovere le macchie, che è l'acido trannexamico. E questo lo dovete memorizzare perché ci sono pochi prodotti che avviano in cosmetica adesso l'acido trannexamico ed è uno dei migliori prodotti per rimuovere le macchie. Perché? Perché lavora a diversi strati, soprattutto regolando la trasferenza, la trasferenza di quella melanina che è in profondità verso la superficie, quindi è come che blocca il passaggio e blocca la creazione della melanina. Va bene? Oltre a questo, cosa avevo qua? Guardate, vi faccio vedere questo. Questo è un siero del marchio The Ordinary a base di acido lattico al 10%. Questo è uguale, è un mix tra siero e tonico perché è molto liquido. È molto simile al Pixi, a questo di acido glicolico. Sono due tipi di acidi che lavorano in superficie. L'acido glicolico, questo di Pixi, ha la capacità di penetrare un pochettino di più. Quindi, oltre a togliere le macchie in superficie, come vi dicevo, andrà anche a lavorare sulle macchie in profondità a lunga durata, utilizzandolo in continuazione. L'acido lattico è molto più leggero, molto più soft dell'acido glicolico. La cosa positiva dell'acido lattico è che lo potete utilizzare anche se avete una pelle sensibile, anche se avete una pelle sottile. Lo potete utilizzare perché è poco irritante. Quindi ha quella capacità peeling in superficie che rimuove le cellule morte, che rimuove le macchie e, per esempio, lo potete utilizzare, io questo lo utilizzo tantissimo, questa mattina, prima di registrare questo video, l'ho messo, perché ti crea quella pelle con un pochettino di lucido, di luce, pulita, con i pori poco dilatati e crea un bellissimo effetto per la tua pelle, incluso se hai la pelle sensibile e, per esempio, per andare alla sera, se devi andare a una cena, se hai qualche evento, questo è ottimo perché non ti crea irritazione. L'acido lattico in superficie va benissimo. Questo, tra l'altro, ha un pochettino di acido gialuronico, quindi va a idratare e l'avinamento di acido lattico con acido gialuronico è ottimo perché l'acido lattico rimuove le cellule morte, l'acido gialuronico va a idratare la tua pelle. Ma qua parliamo di macchie e quindi l'acido lattico, per quelli che hanno una pelle sensibile o per te che sei giovane, che passi tante ore davanti al computer, utilizzare l'acido lattico potrebbe essere una buona soluzione perché non vai a irritare troppo la pelle e soprattutto la vai a cominciare a trattare anche se ancora non hai le macchie e stai facendo prevenzione delle macchie. Un altro che vi faccio vedere, sempre del marchio Murat, è questo. Questo è stata una piccola delusione per me quando l'ho comprato. Vi dico perché avevo scelto questo prodotto. Cercando su internet prodotti, io non conoscevo bene il marchio Murat, poi l'ho conosciuto, hanno dei prodotti ottimi. Questo non è un prodotto cattivo, nel senso che non è che vai a buttare i soldi. Questo è un siero alla vitamina C. Mi dimenticavo di dire una cosa. Io qua vi sto parlando di cosmetici con principi attivi per trattare le macchie, ma nella vostra routine di bellezza ci devono essere due composti fondamentali che ve l'ho detto sempre. La vitamina C e il retinolo. La vitamina C al mattino, il retinolo alla sera. La vitamina C va a schiarire le macchie, a uniformare, a omogenizzare l'incarnato e a migliorare il colore del vostro incarnato. Il retinolo va anche a trattare le macchie e va a trattare anche le imperfezioni e le rughe. Quindi quelli sono fondamentali. Oltre a quelli possiamo aggiungere questi che vi sto dicendo. E vi dicevo, questo del marchio Murat è stata una piccola delusione perché io nella pubblicità, lo avevo letto nel sito web americano, avevo visto che aveva un 2% di idrochinone. L'idrochinone è il composto, il principio attivo più potente che ancora oggi conosciamo per trattare le macchie. Il problema è che l'idrochinone in Italia bisogna prescriverlo. Non puoi andare in farmacia a comprarti una crema con l'idrochinone o in profumeria a comprarti una crema con l'idrochinone o un siero con l'idrochinone. Bisogna avere la prescrizione del medico e che il farmacista te lo faccia come galenico. Direte, beh, tu sei medico, ti potevi fare la prescrizione e andare in farmacia che te lo facessi il farmacista. Ed è vero, ma a volte faccio poca... come dirlo senza creare dei problemi. Mi piacciono i marchi di cosmetici che lavorano con i cosmetici. Il farmacista che fa la sua linea di cosmetici nel retro della farmacia, eccetera, trovo che a volte sono cosmetici poco strutturati e poco ricercati e con pochi principi attivi. Ma se trovate un farmacista che vi fa l'idrochinone, la crema di idrochinone, va benissimo. L'idrochinone bisogna stare molto attento ad utilizzarlo perché è altamente irritante. Quindi non serve a tutti i tipi di pelle. In altri paesi dell'Europa lo potete trovare in parafarmacia e, come vi dicevo, io l'avevo comprato questo per l'idrochinone. Non ho grosse macchie. Dopo l'estate volevo un pochettino ridurre quelle che si erano create durante l'estate ed è stata la delusione perché poi, quando l'ho ricevuto, l'ho comprato in farmacia, scusate, mi sono messo a leggere tutti gli ingredienti e mi sono reso conto che non aveva l'idrochinone che ha questa tecnologia che loro chiamano NHP3 con un pseudo-idrochinone e poi una vitamina C con oligopeptidi. Vi dico, come si erano di vitamina C? È ottimo. Sicuramente, oltre alla vitamina C che va a schiarire le macchie, ha questo complesso, questa tecnologia NHP3 che qualcosa farà. Ma non aveva l'idrochinone che era quello che io volevo. Ma, vi ripeto, non avete bisogno proprio dell'idrochinone. Possiamo utilizzare altri composti. Quindi, per il momento, oltre alla vitamina C e al retinolo, abbiamo visto l'acido glicolico, l'acido trannexamico e l'acido lattico. Passiamo ai due ultimi che vi volevo far vedere. Sempre del marchio The Ordinary e un giorno vi parlerò di questo marchio perché ha dei prodotti molto economici con una concentrazione ottima ma che bisogna sapere utilizzarlo. Come io vi dico, se conoscete il principio attivo avrete la possibilità di andare in farmacia, di andare in profumeria e comprare dei prodotti che sono molto più economici e che fanno la stessa cosa di quelli che costano tantissimo. Ma per quello bisogna capire quali sono i principi attivi. E ve lo dicevo in un altro video. È come se uno vuole fare una torta dolce, una torta salata, sa che in una deve utilizzare lo zucchero e nell'altra deve utilizzare il sale. Ma non c'è bisogno che nessuno nel supermercato te lo dica. Lo sai tu perché lo abbiamo imparato da quando eravamo piccoli. Torniamo a questo. Arbutina, alfa arbutina. Vi ricordate adesso che vi parlavo che questo io pensavo che aveva l'idrochinone? Non all'idrochinone. Cos'è l'alfa arbutina? Un derivato dell'idrochinone. E quindi quando quello ho scoperto che non aveva l'idrochinone ho comprato l'alfa arbutina di modo che io li metto questi quasi insieme, uno dietro all'altro. Prima metto l'alfa arbutina che è più liquida e poi metto questo che ha la vitamina C e quello che è complesso per depigmentare, per rimuovere le macchie. L'alfa arbutina, come vi dico, è un derivato dell'idrochinone. Non è tanto potente come l'idrochinone ma ha un 2% ha una concentrazione ottima per ottenere la rimozione delle macchie. E cosa fa l'alfa arbutina? Uguale che ve lo dicevo con le altre cose. All'inizio del video vi dicevo 7 stratti di pelle macchie superficiali, macchie profonde e la melanina che passa da uno estratto a un altro fino ad arrivare in superficie. L'alfa arbutina mi va a bloccare la creazione delle macchie in profondità. Le cellule, le melanocita che creano la macchia mi blocca la creazione della macchia. Quindi l'alfa arbutina non sta funzionando né in superficie né a metà. Sta funzionando proprio nella parte dove si crea la macchia. E questo è fondamentale per le persone che per esempio hanno un melasma. Un melasma è un tipo di macchia che si dà nella fronte, nel naso, in questa zona che capita spesso alle donne incinte o con i cambi ormonali. sono macchie, una macchia molto profonda molto difficile da trattare molto difficile da fare scomparire e che ogni anno con due ragli di soli che prendono si macchia di nuovo la pelle. Lì bisogna tenere fermo il melanocita la cellula che crea la melanina e l'alfa arbutina con altri composti possono fare che la melanocita la cellula che crea le macchie rimanga un po' ubriacata e non si creino le macchie. E per ultimo un altro composto pensato per le macchie che questo video sta diventando lungo ma vi dicevo un tema molto difficile molto complesso e non sarà il primo video che vi parlo delle macchie non sarà l'ultimo che vi parlo delle macchie vi parlerò in altri. Del marchio Sesderma questo marchio spagnolo c'è il Azelacru che è un siero liposomato che contiene non solamente l'acido azelaico ottimo per le macchie e anche per l'acne e anche per le cicatrici dell'acne e anche per le macchie che ha lasciato l'acne l'acido azelaico uno dei miei preferiti ma contiene anche l'acido tranexamico quello che vi dicevo che aveva questo composto questo tonico e che per quello lo avevo comprato. questo l'Azelacru contiene due principi attivi contro le macchie l'acido azelaico e l'acido tranexamico di modo che sono due due composti che vanno a lavorare a diversi livelli a diversi estratti della cute ed era quella la filosofia che vi dicevo io per esempio cosa faccio? Di notte lavo il viso poi metto il siero con acido glicolico che so che mi tratta le macchie superficiali e un pochettino in profondità poi posso mettere perfettamente l'alfa arbutina che va in profondità a bloccarmi la melanocita e poi posso mettere l'acido azelaico con il tranexamico che mi lavora negli altri estratti della pelle e per ultimo una crema idratante o il retinolo tutte le sere faccio così? No non faccio tutte le sere così alterno nel senso ci sono delle sere che metto uno sere che metto un altro di solito metto sempre il retinolo sia come siero o come crema con il retinolo di modo che io ogni giorno sto dando un stimolo diverso alla mia pelle e sto lavorando in posti diversi un giorno ammazzo il melanocita lo lascio ubriacato che non mi possa creare la melanina ma un altro giorno se per caso mi ha creato qualcosa blocco la strada della melanina di andare dal melanocita in profondità alla superficie un altro giorno se per caso è arrivato alla superficie metto il tonico con l'acido glicolico che mi toglie le macchie superficiali come vi dicevo un tema molto complesso molto lungo e ne parleremo tantissime volte e poi io cambio prodotti quindi vi dirò altri nuovi prodotti quelli che mi piacciono di più quelli che mi piacciono di meno ma cominciare a tenere in testa tutti questi principi attivi e così potrete fare degli acquisti consapevoli e non spendere tanti soldi spero di essere stato utile per voi per te qualsiasi dubbio qualsiasi domanda mi potete scrivere qua sotto o mi potete contattare tramite i miei social Instagram Facebook anche sul mio sito web www.drdomodosolaroma luiscampos.com e sarò grato di darvi risposte perché anche con le vostre domande mi create nuove curiosità mi aiutate anche all'elaborazione di questi video perché così so realmente cosa vi interessa e così posso essere addirittura più utile per voi vi saluto vi auguro una bellissima giornata un buon proseguimento di giornata una bellissima fine di giornata ci vediamo in un altro video ciao a tutti saluti di giornata